Primo incontro del nuovo anno per l'Istituto di Ocesano di Formazione Politico-Sociale Monsignor Antonio Lanza. Un lungo e ricco cammino spiega il direttore Magda Galati. Il tema di quest'anno del corso di formazione politico-sociale è parole, potere e percezione della realtà. È un tema importante, uno snodo in questo tempo che stiamo vivendo, perché tutti possiamo accorgerci di quanto la narrazione costituisca la gestione del potere. Viene utilizzata o può venire utilizzata per la gestione del potere, per la manipolazione del consenso. Quindi noi come istituto che abbiamo come obiettivo quello di promuovere l'impegno sociale e politico delle persone a partire dalla lettura dei bisogni del territorio, riteniamo che prioritariamente occorra che la lettura dei bisogni del territorio parta da un dato di realtà per quanto possibile. E quindi ogni venerdì, dalle 18 alle 20, ci ritroveremo sino a metà maggio con i nostri incontri che saranno tenuti dai nostri docenti interni, ma anche come ogni anno dai docenti esterni, anche degli esperti e dei testimoni, perché non sarà solo un corso basato su un approfondimento teorico che è fondamentale, ma anche a partire da esperienze concrete e testimonianze di situazioni particolari che possano spingere alla partecipazione. Ad approfondire il tema della partecipazione, padre Giuseppe Riggio, direttore di Aggiornamenti Sociali. Il tema della partecipazione è così profondamente legato alla democrazia, al modo in cui questa nostra democrazia può essere curata e rivitalizzata è centrale. Poterne parlare in un luogo in cui si studia, si ricerca e c'è anche una comunità che ragione insieme, penso che sia il posto più adatto per cercare di trovare su cosa la partecipazione oggi si può costruire, si può rifondare e anche rivitalizzare. I luoghi e i modi a riscoprire al centro dell'intervento. Sono convinto che il bisogno della partecipazione e il modo di comprendere la partecipazione sia in fondo rimasto lo stesso da quella che è l'esperienza passata, ma i modi in cui la viviamo oggi non sono gli stessi di vent'anni fa e anche i luoghi in cui tutto ciò si realizza non sono sempre gli stessi. Per quanto riguarda i luoghi penso ad esempio alla questione delle piazze digitali, a tutto ciò che accade oramai nella dimensione virtuale che si affianca e si aggiunge a quella fisica. E sulla dimensione dei modi c'è da prendere in conto quella che è una radicale trasformazione dei nostri stili di vita che non sono più come soltanto una generazione fa. E questo fa sì che si partecipa ancora ma attraverso una modalità di impegno, un suo ritmo, una sua fedeltà nel tempo che può essere molto diversa, molto varia. Quindi riconoscere che è vero che non c'è più la partecipazione a cui noi siamo stati abituati, quelli che tanti di noi hanno ancora in testa, ma questo non significa che non c'è più partecipazione. E sul futuro aggiunge? I scenari per il futuro passano molto da quanto noi siamo in grado di riconoscere che in una cultura fortemente concentrata, su una dimensione che pone l'accento sull'individuo, sappiamo e riconosciamo che abbiamo ancora bisogno di stare insieme e di lavorare e di agire insieme. Questo è un nodo sfondamentale. Credo che su questa dimensione dell'agire e dello stare insieme ci sia una radicale questione di senso per ogni persona e per questo sono fiducioso e speranzoso che nel futuro noi sapremo trovare nuove modalità di vivere questa dimensione e di viverla in modo che sia pienamente autentico e che possa essere a beneficio di chi ne fa parte e di quelli che possono essere un po' più timidi, un po' più resti e che guardano da fuori e che alla fine probabilmente si convinceranno della bontà di questo tipo di coinvolgimento attivo nella partecipazione. Grazie.